Ciao a tutti popolo del tubo e bentornati in un ennesimo tutorial qua sulla off Bergman oggi ci andiamo ad occupare della gestione e riproduzione dei maiali e dei maialini da latte come sempre vi ricordo che questa mappa è disponibile solo su pc e vi lascio in descrizione il forum ufficiale dove scaricarla altra cosa che vi ricordo ormai non ve lo dico più che gli animali non si comprano più dal trigger qua ma dovete comprarli dal pc di casa allora la gestione dei maiali è molto standard anche qui potete scegliere se volete comprare i maiali normali che si riproducono normalmente oppure i maiali diciamo che aspettano già il maialino quindi i maiali femmina che sono contraddistinti appunto dal maialino piccoletto quindi quando andate a comprare gli animali quella col maialetto è quella incinta e vi riprodurrà i maialetti mentre i maiali normali si riprodurranno normalmente come quelli standard del gioco una volta che voi avete i maiali ovviamente chiedate paglia cibo dei suini mais beat chips che poi vediamo come si fa semi di soia e spent grain che è il farinaccio che si fa nel mulino lo abbiamo visto nei tutorial precedenti per fare la produzione dei maialini da latte come si fa ve lo dico io innanzitutto avete sempre bisogno del carrellino che trovate dentro ad attrezzi e categoria animali no scusate trasporto animali eccolo qua eccolo qua la team mini che trovate nel trasporto animali andate nel recinto nel trigger di carico e caricate uno dei maiali mi raccomando deve essere red pigletting deve essere cioè con il maialino in grembo insomma con i maialini in grembo la caricate caricate dentro al vostro dimorchio e la portate qua dentro questa è la stalla fatta apposta per la riproduzione per insomma più che riproduzione per la nascita per il parto ecco qua lo portate la portate anzi qua in questa zona qua e scaricate non c'è bisogno che entrate dentro il trigger è abbastanza largo e qui amici mettete avete un'altra piccola mini stalla che si chiama farrowing pen qua anche qui dovete dare paglia cibo per suini eccetera eccetera per dare la paglia amici potete usare anche le ballette piccolette che trovate nel menu perché se vedete il menu c'è nello shop andate in balle e vedete che avete le ballette piccole guardate e potete anche stoccarle qua sotto qui c'è un piccolo stoccaggio come vedete ecco mo perché loro qua ci hanno messo sto rimorchio c'è un piccolo stoccaggio per le balle queste balle qua voi le potete manualmente trasportare portare all'interno della della stallina per per far partorire la vostra maialettina ecco qua guardate qua portate qui poi io per dare da mangiare qui vi consiglio la cariola cariola che trovate tra le mod del gioco e la trovate dentro la categoria attrezzi eccola qua trovate due tipi di cariole eccola qua e come vedete salendo sulla cariola si può dare da mangiare maialetti ecco fatto vedete con la cariola potete tranquillamente scaricare manualmente la cosa bellissima della cariola è che potete usarla anche per accogliere il letame dopo vi farò vedere come o quando le vostre mangiatoie sono verdi sia per paglia sia per cibo per suini che è quello che conta veramente dovete accendere qua giù questa luce che è una di quelle luci fatte apposta che riscaldano riscaldano insomma i i maialini e aspettare dovete aspettare qualche giorno di gioco e poi i maialini vi appariranno allora attenzione perché questa è la zona di spawn dei maiali all'inizio saranno piccolini e ve li farà raccogliere lo stesso a mano ma questi piccolini sì ok potete portarli dal macellaio a farli diventare porchettini da vendere perché non li potete vendere vivi purtroppo il macellaio deve lavorarli prima per per dovete aspettare insomma perché sì ve li lavora però diciamo è meno litraggio cioè vi vengono pagati meno poi quando andate dopo a venderli quindi dovete aspettare che crescano o questa qui amici è la giusta misura vedete 100 per cento il maialetto è pronto e lo potete tranquillamente trasportare a mano o ovviamente i maialetti li potete trasportare dove volete come volete con qualsiasi dimorchio adesso userò questo e andremo dal macellaio prima però vi volevo far vedere come pulire la mangiatoia del porchetto perché vedete che dentro il porchetto fa i suoi bisogni qua anche se in realtà ancora non sono tantissimi allora per pulire la cacca dovete entrare dentro la stalla con la carioletta andate vicino dove c'è la cacca adesso qua lei ne ha prodotta pochissimo ce n'è un pochino lì però ecco più passa il tempo più ne produrrà non dovete far altro che con il tasto f1 andare a vedere con accendi will barrow una volta che noi accendiamo will barrow lui ricarica automaticamente con la pala basterà passare sopra le zone con la cacca e verrà automaticamente caricata sulla cariola ed eccoci amici eccoci qua dal macellaio il macellaio lo trovate appunto nelle zone del campo 6 e come potete vedere sta qua sta qui nel centro città lo vedete perché c'è una mannaietta e praticamente voi portate i vostri maialetti che siano cresciuti che non siano cresciuti insomma li portate praticamente qua adesso io entro e scaricate il tutto su quelle ceste laggiù che praticamente è una produzione è una produzione io adesso non mi giro non vi faccio vedere tutta la macelleria interna perché potrebbe buttare la sensibilità magari di qualcuno quindi sappiate però che è fatto tutto molto realistico vedete qua voi ci buttate i maglialetti e qui con il passare del tempo vi spawnerà quelli insomma lavorati ed ecco qua amici come vedete il vostro maialetto lavorato ovviamente non è ancora al 100% avrei dovuto aspettare che che arrivasse al 100% però va bene dai come vedete questi sono de plastica quindi sono fintissimi sono maglialetti di plastica come vedete questo è il vostro maialetto lavorato che poi troverete allo shop con questa icona qua è il maialetto col vassoio il maialetto col vassoio eccolo qua sono i su cling pig e come vedete ci sono tantissimi punti vendita e tantissimi prezzi addirittura potete portarli a vendere anche nelle varie famiglie ognuno con un suo prezzo quindi andate voi nel nella famiglia insomma che vi paga di più nel negozio e un po dove vi pare allora amici prima di chiudere vi volevo far vedere altri due attrezzi uno lo trovate dentro a oggetti posizionabili production e parliamo della produzione di polpa di barbabietole o barbabietole tritate uno è usato uno è nuovo risparmiate un po dei soldini lo posizionate un po dove volete qua dentro amici ci buttate le barbabietole e vi usciranno le bit chips cioè le barbabietole tritate adesso vi faccio vedere ecco fatto amici voi venite qua con le vostre belle palotte gommatotte e buttate dentro buttate dentro le barbabietole da zuccherotto aspettate però dovete essere precisi ok dovete essere precisi se no non ve l'accetta qui il trigger è precisissimo ecco buttate dentro ok buttate dentro e come vedete fate partire la produzione ed ecco fatto che lui produce guardate qua guardate qua che spettacoletto vedete spettacoletto o una volta finita la trasformazione diciamo voi venite qua sotto con la cariola e caricate vedete o con la cariola o con qualcosa che comunque entri lì sotto vedete con la cariola caricate e portate la vostra bit chips dove vi pare a voi ovviamente potete usare anche una benna se volete la mettete sotto tranquilla precisa tutta pulita tutta pettinata andate sotto fate inizio a riempimento ed ecco fatto che vi viene svuotato il tutto e infine amici in oggetti product equipment abbiamo il feed mixer wagon dove possiamo fare il cibo dei maiali con il farinaccio e le patate e lo possiamo dare manualmente non è indispensabile ma è carino per chi ama diciamo il realismo detto questo amici il mio tutorial sui maialetti finisce qua spero che vi sia piaciuto lasciate un bel like commentate come al solito vi ricordo che c'è anche l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20 e 30 quindi venite a trovarmi anche in live condividete aiutatemi a crescere e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao